Poi il palle devo andare da mi nonno a colline a mangiare o a rotture di ognore, poi mi nonno perruttami una sborrata nell'occhio. Nonno? Io arrivo di... dammi il te. Allora, com'è andata la scuola oggi? Eh, nipotino del cazzo, ha parcheggiato il mio motorino sull'aiola, vero? No, 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 te lo giuro. Eh, ti ci furono le ruote, io sai, il motorino, scemo. Vieni, entra, t'ho preparato da maggia. Diamo se no, e si viaggia. Moviti. Ma che vai, a scuola ho le valigie, Dio sa sa questo. Le cartelle pesano, eh. Eh, le cartelle, fai una sega, voglio vedere il cashmere. Nonno, ma questo vestitino di milk e strassi, eh, ho detto se lo cambiavi. Eh, strassi un po' in on-terra, però, te. Cosa ci fai una foto di Jim Morrison, un quadro? Vieni, vai. Vada piuttosto d'un bel troppo chinotto. Se no, ci va di fuori o mar solito. Dove io conosco voi giovani. Visto? T'ho preparato anche... No, no, ma per davvero, ma quel quadro lì, chi ha? Io vedo, un agi in morriso, chi ha? Cosa te ne frega a te, chi è? Mangia il pollo, vai. Buono, eh? Ripieno all'izzerri sotto il pesto. Ti garba? Bello, leggero. Così, poi puoi studiare. Cosa a studiare? Non c'ho da fare nulla per domani. Eh, no, c'hai da fare, vai, tionosco. Uniscazzare, non si scappa. Ti lo giuro, non c'ho lezione. Becille, se c'hai da fare la lezione, la devi fare. Capito? E non prendere per il culo... Il quadro di Jim Morrison, perché mi scazzo. Lui sì che era un mito. Mia come l'883, eh? Guarda va, mi sveno io. Per dimostrare che Jim Morrison era un mito. E sarà bene che tu studi. Se no... La vedi questa spada? E te la infilo tutta, tutta... Nel culo.